Ciao bambini! Mi riconoscete sicuramente? Io sono Orso! Dal cartone di Masha e Orso! Oggio e il mio fantastico amico curiosa cimietta George abbiamo inventato un giochino per voi! Una sfida di frutte e verdure per Masha! Vero, Quo George? Verissimo, bambini! Ora dobbiamo chiamare Masha ed aspettarla per fare un amico sfido! Oh, ci mettiamo qui! Masha! Eccomi! Io ho sentito da lontano che parlavate di una sfida di frutte e verdure! Io ho fame! Quindi ora possiamo giocare con frutte e verdure! Sì! Sono curiosissima di fare qualcosa di buono, di verdure, una macedonia, una cosa così! Quindi possiamo iniziare! Tiro bambini! Ok, questo è il gigante bidoncino con quale tu dovresti giocare! Guarda! È pieno di frutta e verdura e dovresti decidere cos'è verdura e cos'è frutta! Ok! E come si fa? Devi buttare verdura a destra e frutta a sinistra! Verdura a destra, frutta a sinistra! Ok! Iniziamo! Questo è un... è un cocomero! Che si divide a metà! Che bello! È verde con le strisce nere! Quando è prontissimo! E dentro ha dei semi neri ed è tutto rosso! Frutta! Avanti, avanti! Andiamo questo! Oh, aia! Cos'è? Ah! Lo so che cos'è, orso! Oddio, aspetta, mi devo sedere prima! Questo è un peperone, bambini! È un peperone verde! E anche dentro ha dei semi, è giallo, perché è pronto, è super pronto da mangiare! E verde! Per mangiarlo si tolgono i semi e si tagli a metà! Ecco, un peperone verde! Peperone è verdura! Vediamo cosa pesco ora! Oh! Carote! Bambini, queste sono le carote! Carote hanno un ciuffetto verde quando sono chiusi nella terra! Poi noi le tiriamo fuori e le mangiamo! Carota è arancione! Ritaglia il ciuffetto e poi la cuoce! Decisamente la cuoce la mamma! Certo! Quindi carota, Masha, è verdura o frutta? Carota è... carota è... carota è frutta! No, Masha, ti sballi! Perché? Perché carota è... Ah, è verdura! Giusto, Orso? Decisamente sì! Carota è verdura! Ok, carota va nelle verdure! Uva! Abbiamo due tipi di uva, bambini! Uva nera e uva viola! C'è uva senza semi e anche con semi! Guardate, l'uva è tutta tonda ed è dolcissima! E visto che l'uva è dolcissima, vuol dire che è frutta! Giustamente, Masha! Uva è frutta! Peschiamo qualcosa da giù, prendiamo! Bambini, guardate! È giallo come il sole! E' acido, acido, acido! Che cos'è? È un limone! Mega limone! Limone è giallo, bambini! Ed è... Ed è... Ed è... Ed è... È frutta! Oh, mi sono caduta! Sì, è frutta, Masha! Vediamo! Uva! Ciambella, bambini! Ciambella non è né frutta né verdura! Quindi la lasciamo mangiare a orso! Prendiamo qualcosa ancora da più giù! Ma che cos'è? Oh, oh! Questa verdurina! Sì, è verdura! È verdura! È verdura! L'hai detto tu! L'hai detto tu! Sì, Masha! Questa verdurina è una melanzana! Ed è... Viola! Una melanzana! Viola! Ed è verdura! Ora prendiamo questo! Ma che cos'è? Bambini! Questi due! Verdura e frutta, Masha! Ma prima devi dire che cos'è! Ma non capisci? E... Ah, è mais! Giusto! È mais! Ah, mais! È verdura! Brava, Masha! Questa verdurina è mais! Ed è gialla! Oh, e una è scappata! Quindi, verdura, va di qua! Oh, no! Li abbiamo mischiati! Verdura, va di qua! Bambini, avete ragione! Dopo contiamo quanta frutta è Quanta verdura abbiamo! Ora ho trovato! Una mela! La mela è rossa fuori Gialla con i semi dentro Con un pettalino verde Masha, mela è frutta o verdura? Mela è frutta! Brava! Mela rossa, bambini! Oh, c'è un'altra mela! Un'altra mela rossa, bambini! Oh, ma questo! Che cos'è, Masha? È un pomodoro! Eh, sì! Brava, bambina! È un pomodoro! Guarda che bello! Buonissimo! Un pomodoro, eh? È una verdura! Oh, ma questo che cos'è, bambini? Chissà! Io lo so! Io lo so! Questa è una banana! Oh, ma che brava, Masha! Sì, giustamente! Banana è dolce! Sì, ed è anche gialla, bambini! È gialla! E quindi va lì! Lì dove? Lì! Perché va lì? Lì è verdura! Ah, no, vai di là! Perché banana è una frutta! Peschiamo! Oh, guarda quante banane! Tutte per te, George! Brazza! Mangia, mangia! Un altro limone! Un altro limone! Un'altra carota! È una carota! Un altro pezzettino di arancia! Lo mettiamo di là! Questo è... Fragola! Giustamente! È fragola! Guarda te! La fragola è rossa dentro e fuori! Ha dei semi! Solamente sopra! Neri! Se tu hai mangiato la fragola, lo sai che sopra ha dei segni neri! Il cappuccio suo! Cappuccetto sopra! È verde, bambini! Quindi la fragola è... La fragola è dolce! Quindi la fragola è frutta! Bravissima, Masha! Uh, questo è un foglio di... È un foglio di insalata! Che brava, Masha! È un foglio di insalata! Insalata, bambini, è... Oh, oh! Insalata è... Insalata è... È verdura! È verdura! Verdura! Oh, da qui vedo! No, aspetta, sto a far fare, ma ho così! Verde! Insalata è verdura! Ora ho trovato uva verde, bambini! Avevamo detto prima che uva ha dei diversissimi colori! Può essere nera, verde, gialla, ma è sempre buona e dolce! Ora prendo questo... Chi lo sa cos'è, bambini? Scrivetelo sotto nei commenti! Questo è un ananas! Ananas è verde! Ananas è frutta! È rimaste qualche cosa qua! Un'altra fragolina buona! E una pera! Pera, eh? Pera è frutta! Pera è frutta! È un altro mouse! Un pomodoro! Oh, bambini! È finito il cibo! C'è un'altra pera! È un'arancia! Arancia arancione! Pera è verde! Oh, orso! Sì, mossa! Hai visto come sono brava? Bravissima, vero, bambini? Sì, bambini! Guardate gli altri episodi! Divertitevi con noi! Ciao, bambini! Ciao, ciao, bambini!